ciao e bentornati a crochet romance e all'ultimo video in collaborazione con il gruppo di la borsa di mary poppins per questo progetto del cuscino con le mattonelle granny square qua vedete come ho deciso io di posizionare le mie mattonelle però voi potete posizionarli liberamente come volete voi se volete abbinate anche non so fate tre file ogni fila con un colore di base come preferite non ci sono problemi adesso passiamo all'unione delle mattonelle e per fare ciò usiamo il colore e voglio però ricordare alle amiche che magari ci hanno raggiunti adesso e che non sanno di cosa sto parlando che questo è un progetto che abbiamo sviluppato in vari step, vari video tutorial che potete andare a vedere e vi lascio il link nell'info box sotto a questo video quindi userò il filato E per lavorare l'unione delle mie mattonelle e anche qua ci sono vari metodi per unire le mattonelle io per questo progetto nello specifico voglio proprio creare un contrasto e quindi vado ad unire con questo filo di contrasto se volete potete fare la cucitura invisibile vi lascio sempre nell'info box un video specifico su quattro metodi su come poter unire delle mattonelle e voi potete scegliere quello che più vi piace quindi adesso vi faccio vedere come unire le mattonelle io ad esempio inizio con le prime due che ho qua in alto e me li prendo e li piego in questa maniera per fare combaciare questi due lati ho avviato un'asola d'avvio sul mio filo e adesso vado a cercare l'angolo di entrambe le mattonelle ecco qua entro attraverso quindi il forellino delle due catenelle che formano l'angolo aggancio il mio filo e passo attraverso il forellino per fissarlo con una maglia bassissima ora vado a cucire lungo questi due bordi e per fare ciò entro solo nel lembo esterno allora mi avvicino con la camera per farvi vedere meglio come faccio quindi prendo adesso la prima maglia da qui dalla prima mattonella e la prima maglia dalla seconda mattonella e faccio una maglia bassissima poi entro nella seconda e nella seconda della seconda e vado così avanti a cucire insieme a maglia bassissima le mie mattonelle come vedete non prendo tutta la mattonella cioè nel senso non prendo tutta la maglia non passo attraverso entrambi i fili della maglia ma prendo solo i lembi più esterni i fili più esterni vedete e poi avremo questa unione delle mattonelle quindi proseguo prendendo sempre metà di un lato e metà dell'altro lato quando abbiamo unito le prime due mattonelle dobbiamo agganciare le prossime due quindi ci prendiamo le prossime due e adesso passiamo attraverso il forellino di entrambi e lavoriamo una maglia bassissima e poi proseguiamo come abbiamo fatto per le prime due mattonelle quindi entriamo nella prima e nella seconda e lavoriamo le nostre maglie bassissima uniamo così anche le ultime tre in modo da avere una fila di tre mattonelle quindi avremo unito questo con questo poi facciamo la stessa cosa anche da questo lato dopo aver lavorato le due righe di cucitura verticali dobbiamo fare anche le due righe orizzontali alla stessa maniera l'unica difficoltà che potrete incontrare e dove si incrociano le quattro mattonelle però voi andate avanti con le maglie bassissime normalmente fino all'ultima maglia disponibile e poi dove avete l'angolo cercate di prendere due fili come vi viene meglio e fate una maglia bassissima al centro dell'incrocio poi fate una maglia bassissima passando attorno all'archietto di due catenelle dei prossimi due triangoli e proseguite poi normalmente ad unire una volta che avete cucito insieme tutte le mattonelle dovete andare a misurare con il cuscino interno che avete preso allora io ho progettato questo cuscino per un cuscino classico 40 x 40 cm quindi in teoria la misura vostra adesso sarebbe giusta a questo punto quindi se vedete che la misura è buona quindi riuscite a coprire tutto il cuscino ok allora fate solo un giro a maglie basse tutto attorno al cuscino o a maglie alte se vedete che manca ancora quel pizzico di larghezza in più e negli angoli ovviamente lavorate come abbiamo sempre fatto due punti 3 catenelle 2 punti oppure 3 punti 3 catenelle 3 punti vedete un po come vi viene meglio l'angolo invece io adesso a casa ho trovato un cuscino da 45 x 45 centimetri quindi è leggermente più grande quindi io adesso andrò a fare sicuramente tre giri a maglie alte tutto attorno alla mia grande mattonella che ho formato e anche qua ovviamente negli angoli andrò a lavorare sempre i miei aumenti come abbiamo fatto per qualsiasi altra mattonella fate ovviamente in questo giro di rifinitura che dovete fare sia per il sopra che per il sotto e poi uniamo insieme i due lati quindi adesso è il momento di misurare il vostro cuscino ora che il nostro cuscino ha raggiunto la sua larghezza definitiva dobbiamo unire i due pannelli e quindi li mettiamo uno sopra l'altro facendo affacciare il rovescio di entrambi all'interno del cuscino ovviamente e poi andiamo a fare una unione a maglia bassa tutto attorno però solo su tre lati io sul lato inferiore lascio aperto perché poi dovrò fare una chiusura una una patella di chiusura in modo che poi possiamo inserire il nostro cuscino e sfilarlo quando vogliamo e lavare il cuscino separatamente cioè l'interno del cuscino separatamente dalla nostra fodera se non volete fare la patella per la chiusura che io farò con dei bottoncini automatici probabilmente potete anche andare a cucire su quattro su tutti i quattro lati del cuscino però io preferisco poterlo aprire e quindi ora inizio da questo angolo vado tutto attorno fino a qui e poi mi fermo qua per farvi vedere come fare la patella quindi lascio per estetica il bordo inferiore aperto perché così una volta che appoggio il mio cuscino e sul divano la patella non mi non mi si vede sopra e per sapere qual è il lato basso vi basta guardare le farfalline oppure la direzione della lavanda ok quindi dopo tante chiacchiere passiamo alla pratica ho fatto una sola da via mi aggancio nell'angolo passando attraverso le due mattonelle porto sul davanti il filo faccio una maglia bassissima per fermarlo ora nell'angolo lavoro una maglia bassa e poi entro qui nella prima maglia e anche del primo pannello e anche del secondo pannello e lavoro una maglia bassa in questo caso mi scuso se non si è visto in questo caso io passo quindi passo attraverso entrambe le entrambi i fili della maglia perché voglio che sia una cucitura ben ferma ok mettiamo un po di zoom così magari si vede anche meglio ok allora quindi entro normalmente nella mia maglia entro nella maglia del secondo pannello del secondo pannello quindi avrò quattro fili più l'asola porto sul davanti il filo e lavoro una maglia bassa e questo lo faccio per tutto il cuscino qua ovviamente ho lavorato sul pannello dietro con il con la mattonella granny quindi o anche i forellini delle catenelle passo semplicemente sotto e qui nell'angolo ho fatto solo una maglia bassa perché poi è solo l'inizio ma quando mi trovo negli altri due angoli devo lavorare negli angoli 3 maglie basse per fare la curva ok dopo aver cucito insieme a maglia bassa i tre lati mi rimane solo un lato aperto e a questo punto ho deciso di lavorare comunque anche da questo lato altre cinque maglie per chiudere leggermente un po di più allora ho lavorato 3 maglie basse nell'angolo e quindi adesso vado a unire altre cinque sempre a maglia bassa ok e così o l'angolo meglio rifinito soprattutto quando poi inseriamo il cuscino la stessa cosa la devo fare anche da questo lato però adesso non vado a tagliare il filo vado avanti a lavorare a maglia bassa però adesso su questo lato posteriore quindi sul dietro del cuscino non lavoro più quindi lavoro adesso semplicemente a maglia bassa però solo sul davanti del cuscino vedete così rimane aperto vado avanti e ci incrociamo qua ed eccomi arrivata all'altro angolo 5 maglie prima dell'angolo e adesso vado a unire di nuovo insieme quindi entro nel primo strato vado a controllare bene dove sono le mie cinque maglie dell'altro angolo ecco qua entro nel secondo strato e quindi unisco di nuovo i due pannelli a maglia bassa ok cinque punti li ho fatti ora mi rimane ovviamente ancora l'angolo se vi ricordate quando mi sono agganciata ho fatto solo una maglia bassa ma siccome noi lavoriamo sempre tre maglie basse nell'angolo vado a lavorare altre due maglie basse e poi posso fare una maglia bassissima per chiudere il lavoro tagliamo il filo adesso ci dobbiamo riagganciare possiamo svoltare il lavoro e dobbiamo riagganciarci solo sul lato dell'apertura per lavorare la patella e io vado a lavorare quindi tutto a punto basso fino a raggiungere circa sei centimetri cinque centimetri sono sufficienti si cinque cinque centimetri di patella e vado semplicemente a lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa righe dopo righe perché questo adesso deciderò se andare poi a chiudere il cuscino con i bottoni automatici che attaccherò quindi sulla patella e sul rovescio oppure se non volete usare i bottoni automatici e avete lavorato il rovescio con la mattonella granny classica potete anche usare dei bottoni e vi farò vedere come attaccarli quando avete lavorato abbastanza righe a maglia bassa e avete creato la vostra patella vi consiglio di inserire un cuscino dentro il nostro copricuscino e di andare a posizionare la patella e fissarla intanto con gli spilli e controllate bene che sul davanti si vede bene il risultato che vi piace e adesso avete quindi trovato la posizione per poter attaccare i vostri bottoni o automatici o ai bottoni tradizionali io userò 7 bottoncini ovviamente se non usate gli automatici dovete andare ad assicurarvi che i bottoni che andate a usare passano agevolmente attraverso i forellini del granny quindi devono essere su misura dei forellini praticamente un po più grandi rispetto ai forellini in modo che poi tengano anche chiuso il lavoro allora semplicemente vado adesso a farvi vedere come fare il primo come attaccare il primo bottone poi voi li andate ad attaccare a distanza regolare lungo tutto il lato del cuscino ok quindi vado a togliere il primo spillo e ho preparato un filo con l'ago da cucito e semplicemente vado a posizionare il primo bottone quindi ho fatto un nodo il bottone e il filo è un filo doppio e adesso vado a fissare il mio primo bottone al centro della della patella ripassiamo tre volte attraverso lo stesso forellino in modo da fissare bene il bottone ok e poi andiamo a nascondere la codina e possiamo tagliare l'eccesso e questo lo facciamo con tutti i bottoni e ora che ho attaccato i miei bottoni posso andare a chiudere il cuscino e siamo davvero pronti i cuscini rimarranno nascosti all'interno e non vi daranno nessun tipo di fastidio ok magari li dovete sistemare un momento ok poi quando avete trovato la posizione ideale ecco fatto possiamo girare il cuscino ed ecco il cuscino pronto ed ecco il risultato io spero che vi sia piaciuto questa video serie che avete realizzato insieme a me anche il vostro cuscino personalizzato con i vostri colori preferiti e che vi iscriviate al canale per qualsiasi cosa vi ringrazio se mi contattate per informazioni sul filato o se volete semplicemente lasciarmi un commento sotto a questo video leggerò con piacere e vi risponderò appena posso un abbraccio grazie e a presto ciao